Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale All'ex campo d'aviazione a Fano avanza il degrado tra i rifiuti e anche generi alimentari Auto incendiata in Viale Verdi a Pesaro spunta la pista passionale Istituto Agrario a Fano, comune regione a colloquio con il ministro Valeria Fedeli, attendiamo solo l'ufficialità Presentate le giornate del premio letteraria, una giuria di studenti valuterà i romanzi in concorso Carnevale di Fano, il sindaco seri soddisfatto dell'edizione, forte ricaduta economica positiva sulla città Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia Come avete sentito dai titoli, l'ex campo d'aviazione a Fano è stato preso di miera ancora una volta dai furbetti dei rifiuti Ma tra la vegetazione spuntano anche degli aiuti alimentari provenienti dall'Unione Europea E non è la prima volta, vediamo il servizio di Lino Balestra L'area dell'ex campo di aviazione di Fano rimane il posto prediletto per gli ecomaleducati Dove scaricare ogni sorta di rifiuto o per disfarsi di suppelletti lingombranti Nel tempo ci abbiamo trovato di tutto, dalle derrate alimentari provenienti dalla comunità europea Per le genti disagiate, chili e chili di cibo ancora commestibile lasciato alla mercè di cani e animali Mobili, carcasse di lavatrici, motori elettrici, quello che rimaneva di un televisore Poltrone che ormai avevano assolto al loro compito di ospitare il fondoschiena dei furbetti dei rifiuti E così destinati al cimitero delle schifezze, l'ex aeroporto appunto Dove celati dalle incolte erbacce che ormai hanno preso il sopravvento Notte e tempo pongono in essere il loro scellerato atto Ancora una volta stamattina ci abbiamo trovato derrate alimentari di prima necessità Tipo i pacchi che la Caritas dona quotidianamente ai bisognosi Gettate lì, tra i rovi, pasta, riso, passata di pomodoro della comunità europea, tè Tutto in malora, alla faccia di chi invece ne ha veramente bisogno Ma poco distante, altri rifiuti, questa volta di natura decisamente diversa Di tipo automobilistico diciamo Manca il motore e le ruote, ma volante, sedili e portiere ci sono Ora ci poniamo alla domanda Ma il resto dell'auto, dove è finito? E andiamo avanti con la cronaca Una Fiat Punto parcheggiata in Viale Verdi a Pesaro è stata incendiata ieri sera dopo le 23 La proprietaria dell'auto, una 39enne del posto, alla vista del mezzo distrutto Ha avuto un lieve malore ed è stata accompagnata all'ospedale San Salvatore da un'ambulanza del 118 Secondo una prima riscostruzione dei fatti l'incendio sarebbe doloso Sul caso indaga la polizia di Pesaro E per ora una delle piste seguita è quella appassionale Gli agenti infatti stanno indagando tra le conoscenze e le relazioni della donna E adesso cambiamo argomento perché è stato fatto un altro passo avanti Per il bienio dell'istituto agrario Cecchi a Fano E ieri c'è stato un confronto positivo con il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli Avere il bienio dell'istituto agrario a Fano sembra sempre meno una chimera Dopo il colloquio degli assessori di Fano, Mascarine e Marchegiani Supportati dal vicepresidente del consiglio regionale delle Marche Renato Claudio Minardi Con il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli Gli animi sono più rasserenati e con le dovute cautele a settembre Potremmo avere il Cecchi nei locali individuati dal comune a San Lazzaro Per ospitare le nuove classi L'incontro è stato positivo perché abbiamo visto che il ministro ha registrato Ha compreso le nostre ragioni E ha preso anche un impegno Che è quello sostanzialmente di trovare una soluzione positiva Che dia una risposta per l'appunto non solo a quelle che sono le nostre aspettative E quelle di un intero territorio ma anche a quelle che sono le deliberazioni Che sono state fatte dal soggetto che era competente a farlo Cioè la regione Marche Per Fano questa sarebbe una battaglia vinta importante sul tema scolastico Per la quale c'è stata anche la scesa in campo della responsabile scuola del PD La senatrice Francesca Puglisi E qui voglio anche ringraziare la senatrice Puglisi Che è fatta, si è resa protagonista seguendo direttamente la cosa E la notizia è che a breve dovrebbe arrivare l'ufficialità L'indicazione dal ministero all'ufficio scolastico regionale Che ha il dovere di addempere a quelle che sono le guide Sul dimensionamento scolastico indicate dalla regione Decisivo in questo frangente il ruolo della regione Qui spetta la competenza specifica della pianificazione scolastica Ed una volta che tutti i soggetti interessati Istituto scolastico, città interessate, provincia, regione Sono d'accordi L'ufficio scolastico regionale deve eseguire ciò che la regione dispone In materia di dimensionamento scolastico La regione ha deciso di far aprire la sede del Cecchia Fano Non può essere che un'interpretazione restrittiva di una circolare Impedisca questa opportunità Ci siamo rivolti al ministro che ci ha rassicurato E che ha detto che ci sarà una soluzione positiva al problema A questo punto ci aspettiamo dal ministro La formalità e quindi la comunicazione ufficiale Affinché questa cosa tanto attesa dalla città sia veri Trafico bloccato Oggi pomeriggio intorno alle 17 lungo la superstrada Fano Grosseto all'altezza di Serrungarina Dove due veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento Tre persone che sono rimaste ferite in modo lieve Sono state trasportate in ospedale per accertamenti La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Fano Che per consentire la rimozione delle auto Ha chiuso per circa un'ora entrambe le corsie in direzione mare Un altro incidente stradale si è verificato purtroppo questa mattina Intorno alle 8 e località camminate Una 43enne senegalese residente a Mondolfo È uscita di strada autonomamente finendo capovolta con la propria auto Una Fiat Punto La donna che ha riportato lesioni lievi è stata trasportata dal 118 Al pronto soccorso del Santa Croce Sul posto sono intervenuti vigili urbani di Fano per i rilievi di legge Ed è stata presentata questa mattina la quarta edizione delle giornate Del premio letterario Un evento che coinvolge centinaia di ragazzi delle scuole superiori Nella valutazione dei romanzi in concorso Vediamo Che è Laurana E Unitis di Roma Quindi ci chiamano da fuori Quindi c'è la conferma di San Donato Milanese C'è la conferma di Brunico E quest'anno anche Roma Per cui abbiamo veramente Siamo da un lato contentissimi Dall'altro ci pone davvero dei problemi Perché per quanto siano arrivati moltissimi libri 670 volumi Quest'anno abbiamo distribuito Quindi 67 titoli Non sono minimamente sufficienti A così poter accontentare tutti I ragazzi dovranno fare molto sforzo nel turnarsi rapidamente la lettura Perché abbiamo molti molti lettori Do rapidamente quelli che sono gli appuntamenti da qui alle giornate Il laboratorio che facciamo tutti gli anni a richiesta di narrazione Che comincerà venerdì alla Mediateca Montanari Potete trovare le informazioni sul nostro sito E abbiamo come ogni anno le terrarie in città Che sarà il 10 giugno Poi il 6 aprile un grosso regalo Perché in collaborazione con Rapsodia Poi lo diremo in conferenza stampa verrà a Fano Bjorn Larsson Per la prima volta riusciamo ad ospitare un autore straniero Insomma il che ci rende molto contenti E rispetto alle novità delle novità Quella di cui veramente sono più felice È la nuova, nuovissima collaborazione che inizia adesso E quindi ancora così Quello che accadrà lo vedremo nel tempo Con l'Istituto Treccani L'Istituto Treccani ha deciso di sposare letteraria E insomma prevedo grandi cose in futuro Siamo molto contenti comunque E si è svolto nella giornata di ieri Il primo dei due eventi dedicati alla giornata internazionale delle malattie rare Organizzati dall'Associazione Nazionale Atasia Telangiectasia Davide De Marini In collaborazione con l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Al convegno che si è svolto nell'Aulamagna di Palazzo San Michele a Fano Hanno partecipato numerosi studenti, cittadini ed esperti del settore Domenica 5 marzo invece Dalle 9 alle ore 19 in piazza 20 Settembre Sarà allestito uno stand In cui verranno distribuiti del materiale informativo Palloncini e piantine di primule Il fiore simbolo della rinascita e della speranza Questo per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle malattie rare Cambiamo di nuovo argomento perché nei giorni scorsi si è svolto a Fano il Baccala Fest Una disfida internazionale dedicata agli chef amatoriali Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio è stata la tradizione greca Giovedì 23 febbraio si è disputata al ristorante alla Lanterna L'ultima gustosa tappa del Baccala Fest L'ottava di sfida internazionale di cuochi amatoriali Una gara di cucina molto divertente Durante la quale 9 cuochi amatoriali Provenienti da diverse regioni italiane e da fuori confine Si sono sfidati cucinando per la giuria tecnica e per quella popolare Composta dal pubblico presente in sala Ognuno la sua personale ricetta di baccalà A colpi di merluzzo dunque ne è rimasto soltanto uno E la sua ricetta la migliore del territorio Mi piace, mi diverte, mi entusiasma E devo dire che stasera, due mesi fa circa, abbiamo fatto quella dei professionisti Io spero che i miei colleghi non mi sentino Ma stasera questi ci stanno dando, a tutti me compreso, dei bei punti Veramente, io ho servito, ho avuto l'onore di servire la giuria E ho visto veramente otto pianti fatti da professionisti La tradizione greca, quella del territorio di Sparta in particolare Si è giudicata il gradino più alto del podio dell'ottava di sfida Si chiama baccalà dei Dorici ed era una ricetta estremamente semplice Che è riuscita a mettere d'accordo i palati della giuria tecnica E quella popolare in un trionfo di gusto Baccalà, olive, olio e la grande passione della cuoca Crissa Culuriano, per la cucina naturalmente dove ci ha messo del suo Ad aggiudicarsi il secondo posto e premio speciale della giuria popolare È stato invece un piatto italianissimo Un'interessante variante del classico baccalà sulle canne Autore del piatto Enrico Ambrosini di Saltara Già vincitore in passate edizioni In Friuli poi è andato il premio speciale della giuria tecnica Ad una ricetta che ha saputo unire due tradizioni Baccalà e polenta Baccalà alla moda di San Daniele, il nome del piatto Ma il Baccalà Fest continua nei ristoranti della regione Con Giro Baccalà Un viaggio alla scoperta delle migliori declinazioni di stoccafisso E baccalà nelle terre marchigiane Concludiamo questa iniziativa con questa serata Che a mio avviso è una bella serata Che valorizza questo piatto e valorizza gli chef che lo stanno cucinando Fino al 7 marzo infatti i viandanti dei sapori Potranno gustare ben 20 ricette diverse di baccalà o stoccafisso In altrettanti ristoranti delle tre province marchigiane Pesaro Urbino, Ancona e Macerata Al prezzo convenzionato di 14 euro per il baccalà E 17 euro per lo stoccafisso Invece una ragazza di San Costanzo è la pasticcera più brava della provincia di Pesaro Urbino Si tratta di Elena Fornaciari Architetto di 27 anni che ha conquistato giuria tecnica e giuria popolare con la sua voglia d'estate Elena ha trionfato giovedì sera alla finalissima della quarta edizione di Chef in the City Cake Edition Andata in scena nel mese di febbraio in alcuni bar della città della Fortuna La 27enne ha soffiato lo scettro a Giulia Sbrega Vincitrice dell'edizione 2016 Superando in finale Gian Maria Castellucci Commerciante fanese di 41 anni A Elena, oltre che gli applausi della tifoseria È andato il premio di 500 euro consegnato sotto forma di assegno simbolico Dalla pasticcera uscente Giulia Sbrega Castellucci invece, anche lui seguito da un caloroso pubblico Si è potuto consolare con un frullatore multiuso E dal 6 marzo torna alla Cinema Politeama La rassegna dialetale Cianfrusaglia con la compagnia del Gaf Il lunedì debuttiamo al Politeama con la nuova commedia Il Gaf debutta con Quel che è una strossa in grassa Le date sono lunedì, martedì, mercoledì Quindi 6, 7 e 8 marzo E lunedì successivo 13 di marzo È una commedia secondo noi molto divertente Perché la garanzia principale per i nostri spettatori Per quelli che vorranno venire a vederci al Politeama È che noi ci stiamo divertendo veramente tanto durante le prove E come sempre è un lavoro di nostra produzione Dove lo spirito di squadra, il gioco, il divertimento puro la faranno da padrone Buonasera Buonanotte, ma scurti, te spicci Buonasera, se non mi fai discurra Arrivederci, ma arrivederci e buonanotte Si in televisione, che figura ce fai fai? Si, si, subito Allora diceva che la cucu, cucu La cucma del caffè Stupido un'altra volta La cucu, cucu, media fa mu, fa mu Fa morì Non fa mu, 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 mu E allora farà be, be? No, è stupido Non fa mu, 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 ri Cioè, si Ah, fa mu, 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 ri Derrida Ah, allora Anticipo che il botteghino è già aperto Quindi chi vuole acquistare i biglietti Basta recarsi al Politeama E le date sono lunedì 6, 7, 8 marzo Per replicare ancora il 13 di marzo Quindi in questi giorni il GAF rappresenterà al Politeama Quel che è una strossa in grassa Vi aspettiamo tutti E adesso torniamo a parlare del Carnevale di Fano Che ieri con il Rogo del Pupo Ha chiuso l'edizione 2017 Oggi ad esprimere soddisfazione è stato il sindaco Massimo Seri Per la forte ricaduta economica positiva sulla città Nel mese di iniziative, specialmente durante le tre domeniche di sfilate Ha detto il primo cittadino Bar, ristoranti, pizzerie e alberghi Hanno fatto registrare il tutto esaurito Questo a testimonianza che il Carnevale non è solo sinonimo di festa e divertimento Ma anche di turismo, sviluppo economico e promozione del territorio Come dimostrano le tante prenotazioni a visite guidate alla Fano Romana L'ondata di visitatori ha concluso Seri Ripaga l'amministrazione dell'investimento e degli sforzi effettuati E in tema di Carnevale, sabato pomeriggio in piazza della Repubblica a Urbino Le contrade della città non solo si sono sfidate a suon di maschere Tanto impegno e tanta partecipazione hanno dato vita ad uno spettacolo coloratissimo Che ha visto la premiazione della contrada di Hong Kong Come miglior gruppo mascherato con il tema Il Mare In chiusura lo spettacolo del Carnevale du Brasil Che ha chiuso in bellezza un pomeriggio in cui si sono divertiti Ne siamo sicuri, non solo i bambini La Gambini Meccanica di Pesaro invece parteciperà alla Nover Messe 2017 La più importante fiera internazionale del settore In programma dal 24 al 28 aprile prossimi Per l'occasione si presenterà con una nuova immagine Una figura simile ad un robot inanimato chiamato Archer Questo nome è stato scelto dagli studenti dell'ITIS Mattei di Urbino Vincitori dell'iniziativa promossa dall'azienda Che ha coinvolto nel concorso anche gli studenti del Don Orione di Fano E dell'ISPia Benelli di Pesaro Ai ragazzi dell'ITIS di Urbino Gambini Meccanica donerà un premio del valore di 1000 euro Che verranno utilizzati per implementare le attrezzature utili agli studenti E prima di chiudere il nostro telegiornale Vi ricordo il numero di telefono che vedrete fra poco in sovraimpressione Eccolo qua Potete inviarci come sempre foto, video, messaggi di testo Che per la nostra redazione per quanto riguarda le segnalazioni sono molto importanti Io vi ringrazio per la vostra attenzione E la telegiornale ritorna domani sera puntuale alle 20.30 Arrivederci Grazie a tutti